Torniamo al numero 82 di Testiera e andiamo a seguire il 68esimo della lista di partenza, Matteo Riva, 0 ieri nella prima prova, impeto del Cortese da Conte della Caccia e da Euro of the River, una fila di Kidam de Revelle. Francesco Cagnana, proprietario e elevatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.